Luca Secondi, Assessore alla Mobilità della Comune di Città di Castello. Bike sharing, pronto bus, non c'è che dire, due iniziative che hanno avuto e che stanno ruscotendo un buon successo. Sì, diciamo che il primo fa parte di quella che è la cosiddetta mobilità sostenibile. Ovviamente Città di Castello è una città che si adatta allo sviluppo, alla propensione per quanto riguarda l'utilizzo della bici. Ovviamente questo è partito come un progetto sperimentale, utilizzando fra l'altro poi risorse comunitarie. Abbiamo voluto investire sulla crescita collettiva della nostra comunità, offrendo quindi la possibilità, uno strumento fattivo, per sviluppare quello che può essere una mobilità sostenibile nel nostro territorio, soprattutto per la circolazione all'interno del capoluogo e ovviamente all'interno della città. Era un progetto sperimentale, non è ancora il tempo del consuntivo, ma possiamo anche comunque sia dire che i dati parziali che abbiamo è di una diffusione molto importante, forse anche favorevolmente dato dalla collocazione Lancia del Tevere, che può permettere un interscambio e un parcheggio e quindi la possibilità di posizionare lì la macchina e poi avvalersi del strumento della bici per entrare all'interno della città. Ha avuto notevole successo non solo dal punto di vista di turisti che in qualche modo trovano nella bici un veicolo comodo per muoversi, ma un utilizzo anche notevole da parte dei cittadini e dei cittadini di Castello. Quindi questo per dire che sta entrando e comincia a entrare nella coscienza collettiva anche questo nuovo strumento, che onestamente è anche uno strumento più comodo, più agile, perché ovviamente non porta alla problematica dell'utilizzo del parcheggio all'interno, magari nella prossimità di esercizi commerciali e quant'altro. Quindi un strumento valido che proprio per questo, quando l'analisi consuntiva darà i suoi frutti favorevoli, probabilmente sarà inserito, anzi già lo è, inserito un suo sviluppo all'interno di futuri progetti comunitari, che sono ed insistono sul versante dell'Ancia del Tevere, del percorso Tevere. Quindi tutta quella serie di progettualità che guarda alla mobilità e alla mobilità sostenibile, includerà un ampliamento dell'utilizzo della bicicletta, proprio perché si vuole investire su una mobilità sostenibile e ovviamente questo porta alla collaborazione di tutti i cittadini. È operativo anche il servizio pronto bus, che tende a servire un po' a quelle categorie, non chiamiamole disagiate, ma che hanno meno possibilità di muoversi. Sì, diciamo che il pronto bus nasce innanzitutto nel cercare di andare ad intervenire in quelle fasce della popolazione, con cui sia in quei territori, fra virgolette, marginali, di più difficile accessibilità. Quindi non parliamo di trasporto urbano, ma parliamo di trasporto extraurbano. È un'idea progettuale, anche in questa finanziata con un progetto comunitario, il quale vede la possibilità di uno strumento diverso, uno strumento che passa da uno essere uno strumento generalista ad uno strumento funzionale e uno strumento specifico. Cioè il veicolo parte laddove si manifesta una necessità su una determinata zona, su una determinata comunità. Questo appunto è un progetto sperimentale con un progetto finanziato dai GAL, il quale sono intervenuti dei soggetti privati del nostro territorio, poi operatori del nostro territorio, quindi anche dando economia a dei soggetti del nostro territorio. E in questo caso stiamo manifestando un ottimo funzionamento del servizio, perché tante richieste sono state inoltrate. Questo va a insistere, quindi ha anche una funzione, se vogliamo, sociale su determinati territori, ma anche su determinate fasce sociali. Vedi gli anziani che hanno una difficoltà e magari non hanno l'utilizzo del veicolo proprio, quindi vanno a intervenire anche su questi casi specifici. Questo è uno strumento funzionale che molto probabilmente, per quanto riguarda il Comune di Città di Castello, può essere un prototipo per una futura gara regionale del trasporto pubblico locale, dimostrando la validità di questo progetto, può essere inserita sicuramente come uno sviluppo futuro. Anche perché ritengo, in questa opinione personale, che sempre di più i servizi dovranno avere il carattere specifico piuttosto che un carattere generalista, perché il carattere generalista rischia a volte di essere anche uno spreco, se vogliamo vedere un pullman vuoto che va su una determinata frazione tutti i giorni dell'anno, può essere sicuramente considerato anche uno spreco, mentre è più opportuno che il veicolo intervenga laddove si manifesta una necessità di una determinata comunità. Quindi questo è lo spirito per cui si è addivenuti verso questo progetto sperimentale. Attualmente il progetto sta funzionando, probabilmente terminerà verso la fine di quest'anno, l'inizio dell'anno prossimo, e se il resoconto sarà positivo di questo progetto, sicuramente potrà essere posto all'attenzione della regione per poterlo inserire come sviluppo all'interno del nostro territorio comunale. Facciamo un passo indietro, torniamo a parlare di bike sharing, lei parlava di turisti che si avvicinano perché educati, lo sappiamo, nelle grandi capitali europee, ma anche nelle medie città europee esiste questo scambio parcheggio auto per consentire un po' di fruire meglio della viabilità e della mobilità. Per quanto invece riguarda il cittadino della Valtiberina, ha iniziato a parcheggiare l'auto a Lanza del Tevere e a prendere la bici per spostarsi al centro? Sì, diciamo che ovviamente come tutte le situazioni bisogna dare l'opportunità per farlo. Quindi lo spirito di questo progetto era proprio quello di dire diamo l'opportunità di farlo. Poi l'abitudine e la quotidianità è una cosa che si va a indivenire, si accresce giorno per giorno. Quindi è importante per quanto riguarda l'amministrazione posizionare gli strumenti per permettere un determinato sviluppo. Poi ovviamente sarà azione di sensibilizzazione, ma anche una serie di opportunità che vedranno direttamente i cittadini nell'utilizzare questi nuovi strumenti a migliorare e a incrementare da una parte la domanda e dall'altra quindi anche l'offerta. Quindi sarà un mercato di occasioni che viene prodotto all'interno di questo sviluppo di mobilità sostenibile. Noi riteniamo molto importante che questo possa essere fatto anche appunto data l'accessibilità che la nostra realtà territoriale poi lo permette, dato che comunque sia una realtà in pianura, quindi non ha difficoltà da un punto di vista geografico quello dell'utilizzo della bici. Tant'è un utilizzo della bici che è un utilizzo ovviamente da un punto di vista ambientale ottimale, ma anche ottimale per quanto riguarda la gestione del traffico e tutte le altre problematiche inerenti. Appunto dicevo la volontà è quella di ampliare questo progetto tant'è che noi nel progetto cosiddetto di sviluppo del Tevere abbiamo ideato un percorso che crea un collegamento per tutta la Valtiberina che va da San Giustino fino ad Umbertide, un progetto a cui abbiamo fatto domanda del valore di 2 milioni di euro che punta appunto alla ciclabilità del percorso del Tevere. Quindi uno sviluppo di mobilità sostenibile è sempre più intenso ma pensiamo che è una scommessa e come tutte le scommesse hanno dei rischi ma è una scommessa che può portare frutti molto importanti per il nostro territorio. Per il momento le bici sono posizionate, lo dicevamo, al Parco Ansa del Tevere. In questo progetto di sviluppo e di ampliamento c'è la possibilità, o meglio, ci sarà la possibilità anche di avere altri punti? Sicuramente sì, appunto questa è l'idea legata appunto alle risorse comunitarie perché come sappiamo molto spesso molti di questi progetti camminano nella possibilità delle risorse finanziarie e quindi l'accesso ai bandi sovracomunali sono lo strumento a volte unico per poter ampliare determinati progetti, determinate idee. Sì, c'è appunto quindi la volontà di installare nuove postazioni sia dal versante del Tevere, come dicevo prima, ma sia anche all'interno della città. Quindi questa è l'idea di uno sviluppo. Siamo partiti da un punto nevralgico, se vogliamo, che lancia del Tevere per cercare di partire dando l'opportunità subito a disposizione dei cittadini. E appunto questo progetto è un progetto sperimentale ma che sta dando già dei frutti positivi fin dall'inizio quindi ha tutte le caratteristiche per essere implementato.